Tra Cesena e Empoli un pareggio 1-1 in fondo giusto ma che diavolicamente non premia nessuno. Non premia il Cesena più lucido ed efficace nella manovra fino a spuntare almeno mezza dozzina di palle gol. Non premia il Cesena combattivo, grintoso, mai domo ma che alla partita poteva chiedere solo la piena posta, vale a dire i due punti. Primo brivido al trentesimo, Rissitelli cerca lo spettacolo, Dragolo costringe sul fondo chiudendogli lo specchio della porta. Ancora Rissitelli di testa ma Rossi è ben piazzato. Nella ripresa il meglio della partita, palla al centro, Rissitelli si sempre lui, si invola e con tempismo e precisione da manuale del calcio insacca. Continua a creare palle gol il Cesena con Rissitelli e Lorenzo ma alla mezz'ora incocciati capisce che l'Empoli può provarci solo dalla distanza. Con la deviazione di Cuttone la palla è in rete e il pareggio sancito. Nel finale da segnalare un indiavolato Lorenzo, sua la girata che permette a Drago di guadagnarsi il massimo dei voti. Finale malinconico, come detto tutti rassegnati, nessuno lieto, pubblico compreso. Grazie.